Il patto educativo serve un patto educativo perché i nostri ragazzi sono sempre di più bombardati da mille esigenze e questioni varie e allora hanno bisogno di adulti che li possano accompagnare. Il patto educativo su cui stiamo lavorando tra scuola, sport e famiglia è fondamentale e non possiamo niente senza gli attori principali in questo senso dello sport e senza anche qualcuno, e su questo ringrazio Estra per il lavoro che ha già fatto e che sta facendo, per sensibilizzare il mondo dello sport a ricordarsi che fa lo stesso mestiere, lo stesso lavoro magari della scuola, cioè è fase educativa. La mattina i ragazzi vanno a scuola e il pomeriggio quasi sempre i ragazzi praticano uno sport e allora sono due facce della stessa medaglia e non dobbiamo dare messaggi in maniera distorta, dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione. Innanzitutto parlare di buone notizie è già un fatto positivo e sul settore sportivo ci sono, tra l'altro lo sport ha grandi firme di giornalisti che soprattutto hanno riscoperto la volontà e la bellezza di raccontare storie, storie di integrazione, storie di vittorie ma anche di sconfitte, storie di squadre, storie di contrasto alle dipendenze e quindi io mi auguro che qualcuna di queste storie dei giornalisti che parteciperanno alla seconda edizione del premio coinvolga anche queste storie, magari coinvolga anche ragazzi che frequentano uno sport ma sono in età scolastica, magari possa raccontare anche della bellezza di frequentare uno sport anche a carattere agonistico ma intanto frequentare la scuola e arrivare fino al diploma perché tante storie di ragazzi o ragazzini che ci dimostrano una volontà di ferro di fare un'attività sportiva anche a carattere agonistico ma di terminare gli studi ci sono e spero che qualche giornalista li possa raccontare.